E' un'altra cosa. C'è questa... donna? Nascosta nell'ombra. La vedo anch'io. Ognuno di noi è perseguitato da questa cosa. Mamma? Ehi, Martin, che succede? Ti abbiamo svegliato? Cosa? Molto tempo fa... avevo un'amica, Diana. Le è successa una cosa molto brutta. Tutti hanno paura del buio. E di questo lei si nutre. Vieni fuori. Mamma! Rebecca! Moriremo! No, ci serve più luce. No, ci serve più luce. Tenete le luci spente. No, ci serve più luce. Grazie. Grazie per la visione.